Ciao ragazzi, da quanto tempo? Cioè, sì, da tre settimane che non facciamo ice, eh? Comunque ho sbloccato Ursula. Dovrebbe essere una vecchia megera stregaccia schifosissimamente schifosa. Ok, ci dovrebbero essere questi pupazzetti. Avoid or try to destroy. Va bene, capito, andiamo. Eccoci qua. Siamo infacili perché partire subito in normale non mi sembra una buona idea. Ok, abbiamo già una borsetta. Bene, qua ci dovrebbe essere l'assegno. Vabbè, prendiamo l'occhio. Andiamo di qua. Dobbiamo arrivare a 12 borse. Non possiamo risparmiarci niente. Qua c'è sempre questa roba del globo. Non so perché. Boh, andiamo avanti. Non so. Guardate! C'è uno di quei pupazzetti di cui ha parlato il gioco prima. Ok, vediamo dov'è la vecchia megera. Ok, mi sa che è salita. Mi sa proprio che è salita. Eccola. Madonna. Aiuto. No, cosa è successo? Aiuto. Aiuto. Ok, dobbiamo... Magari così ci dicono dove sono le borsette. Scherzo, non ci ho detto un cavolo. Ok, abbiamo i numeri. Per fortuna. Dobbiamo riuscire a completarlo con Ursula. Ma porca. Stupida strega. Oh, ma quanto cazzo lagga. Scusate il termine, ma lagga è un casino. Per la musica ci si mette. Madonna. Uffa. Ma quanto se ne va questa? Ok, se ne è andata. E quindi questo vuol dire che possiamo andare avanti. Vero? Bene. Ok. E quindi possiamo già scappare? Vero? Vero? Sì. Bene, bene, bene. Prendiamo il teletrasporto e siamo fuori. Ok, ci spicciamo. Bene, abbiamo completato anche la signorita Ursula. No, no, grazie. Le pubblicità posso fare anche a meno. Lost in Blue Global. Madonna, questo fa paura di Granny. Ok, abbiamo finito il livello. Siamo scappati in 3.39, ma solo perché avevamo un nuovo personaggio. Oh, madonna. Cos'è su questi rumori? Mi fa paura. Vabbè? Non importa. Non importa. Scusate se il video è durato poco, però, c'è, dovevamo solamente trovare un personaggio. Beh, per questa volta è tutto, eh. È tutto, vabbè. Dislessia. Quindi, scusate per questo avvenimento. Alla prossima, eh. Ci vediamo su Granny, forse, al prossimo episodio. Ciao. Ciao.